Parlaci un po' di questa esperienza con Neri Parenti e con De Sica e Ghini, che cosa ne pensi? Sei soddisfatto? Sì, 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 sono soddisfatto, è stata una bellissima esperienza e anche perché lavoro con dei maestri, quindi inizi dagli attori che sono Christian, Massimo, dall'argia di Neri e poi con un grande produttore, Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis Devo ringraziare loro perché mi hanno dato questa opportunità di fare anche questo film, l'avevo fatto con loro Carlo Verdone e quindi sono molto contento L'unico rammarico che ho è di non aver lavorato con, voi dite subito, con Paolo Conticini e Fabio De Luigi, quello è l'unico rammarico che abbiamo, ma veramente l'unico perché ci siamo divertiti tantissimo in Brasile, ma proprio tanto C'è qualche aneddoto, qualche scena che particolarmente ti è piaciuta girare o che ti ha divertito di più? Allora c'è una scena che già l'ho visto due volte il film e in sala quella battuta cade la risata Non la diciamo, però sono stato diretto, sono sempre stato diretto da Neri, però in quel momento mi ha diretto Christian De Siga Cioè chiamava il motore, chiamava l'azione e mi diceva no così, no così e quindi l'è stato un momento molto bello Che progetti hai per il futuro? Hai già qualcosa da anticiparci? Non anticipare veramente ragazzi ancora no, però ci sono e quando sono sicure vi chiamerò e vi farò sapere Perfetto, noi aspettiamo Ciao Roberto Bigarati, Mary B Casting